Alvia indigeni ed esteri di quattro anni, la distanza è quella del miglio, sono in otto. Lungo i paletti, Hermes F.S., Erasmus, Esteban Leone, Enable Again, Ergo Vinci, Eliott & Co., Explosive Axe, Eternal Hope, non partecipa al lancio Eliott & Co., la prende lanciata Erasmus. Explosive Axe, impegnato da Eternal Hope, si ritrae Roberto Vecchione e probabilmente trova posto dietro il leader. 13,3 in lancio, se la prende un po' il figlio di Lovio, di Alessandro Gucciadoro, che va a completare il quarto iniziale in 27,3, a media di 1,8, poco più. I 600 metri sono ultimati in 41,7. Riduce leggermente il ritmo, Explosive Axe, seguito da Eternal Hope, che fatica sulle curve. 800 metri in 56,3, sembrava avesse un po' rallentato, la frazione in curva è comunque volata in 14,6. chilometro siderale, da gettare i cronometri in 1,10 e mezzo. Explosive Axe, Eternal Hope, avvicinata da Ergo Vinci, poi Hermes FS, tre quarti di miglio in 1,25, con ancora 14,3 di frazione. Explosive Axe, entra in chiaro vantaggio in retta d'arrivo. E' uno show, cavallo importante questo, Explosive Axe, che fa una velocità notevole, mentre un ottimo Ergo Vinci sopravanza la calante Eternal Hope. Andiamo a vedere il totale, 1,53,3, media di 1,10,8. Checco al tredicesimo, Explosive Axe, castrone da Love You e Allegria Dream. Doppio del team Gucciadoro al training, doppio di Alessandro Gucciadoro nelle tre corse disputate fino a questo momento. Un ottimo Ergo Vinci in progresso, sferrato di 4, conquista la piazza d'onore che vale come un successo. Poi Eternal Hope ed il futuribile Hermes FS. E' tutto Dagnano per quanto concerne la quinta corsa, linea allo studio.